Buonasera a tutti, bentrovati, grazie per essere qui in PTS per questo ultimo incontro del ciclo di conversazioni sul futuro digitale della cultura 2B. Siamo veramente onorati stasera di avere per questo incontro conclusivo un parterre veramente di grandissimo livello stasera e ringrazio tutti i partecipanti per la loro disponibilità a chiudere questi nostri incontri di stasera. Ringrazio ovviamente la Fondazione Cainon che insieme a Civita e a noi hanno pensato e organizzato questo questo ciclo di conferenze che secondo me è un punto di partenza un punto di partenza lo dicevamo anche con il Cavaliere Foriere un punto di partenza perché rispetto a questi temi penso che il mondo della cultura si deve non solo confrontare ma si deve cimentare nell'individuare soluzioni sempre più innovative. Quindi lascio ovviamente poi al dibattito e agli ospiti gli approfondimenti. Intanto volevo ringraziare tutti voi per essere qui questa sera, tutti coloro che ci vedono in streaming e grazie ancora e passo la parola a Simonetta. Grazie. Anch'io mi associo ai ringraziamenti di tutti i nostri compagni di viaggio perché dal mio punto di vista quindi Cainon prima di tutto che ha avuto l'idea, PTS e l'associazione voleva trovare dei partner per svolgere al meglio il proprio mestiere che è quello di organizzare momenti di riflessione e di incontro contaminato mettendo insieme il mondo delle imprese, il mondo dell'accademia e il mondo della cultura. Convinta com'è che tutto l'ecosistema culturale si debba attrezzare per le nuove sfide della complessità e per dare il proprio contributo a questo cambiamento tumultuoso che ci sta investendo in cui dobbiamo dotarci di strumenti ma anche di comprensione. Cioè a monte dobbiamo capire che cosa succede? Confrontandoci con persone che per mestiere, per attitudine, per cultura lo fanno quotidianamente perché come hanno dimostrato i nostri incontri abbiamo cercare il nostro paese pieno di intelligenze, è pieno di talenti, le nostre imprese anche svolgono un ruolo di motore di cambiamento perché sono, penso al tema che tratteremo oggi sull'intelligenza artificiale, in prima linea nello sperimentare e nel testare. Abbiamo grandi intellettuali, grandi accademici, abbiamo quindi tutte le condizioni per poter guardare con ottimismo in qualche modo al futuro, con vigile e cauto ottimismo ma possiamo farlo. E quindi anche per me vi dico che questo non è la fine di un percorso ma l'inizio di una partnership che doveva puntare a creare una comunità di pratica e devo dirvi dal mio punto di vista noi ci siamo riusciti. Quindi passo la parola al nostro Claudio che è ormai soprannominato, Virgilio, che ci guiderà in questo percorso ringraziando anche tutti gli ospiti autorevoli con alcuni, lo confesso in premessa, giochiamo in casa perché abbiamo Gianluca Anzalone in rappresentanza di Novartis che è il nostro socio con cui discutiamo molto di cultura e sostenibilità, abbiamo Pierluigi Sacco che è nel nostro comitato scientifico, abbiamo sia Claudio Calveri che Simone Arcani che stanno collaborando con il nostro Centro Studi Imperatori e con Alfredo Valeri per questo nuovo rapporto annuale che sarà proprio dedicato al tema dell'intelligenza artificiale e all'impatto sulle modalità di apprendimento e sulle industrie culturali e creative. Quindi buon ascolto a tutti e grazie ancora per essere qui con noi passando prima la parola a quella che è stata così l'artefice ideologa Emanuela Totaro che ci ha guidato in questo percorso e che è riuscita, devo dire, a mettere insieme temi interessanti con panel estremamente qualificati, spesso chiamando anche ospiti internazionali. Quindi brava Emanuela e adesso che dico? Allora no, non mi ripeterò nei ringraziamenti insomma che sono stati già fatti e che ovviamente ripeto, qui ho anche il mio presidente a cui invece faccio il ringraziamento di rinnovarmi la fiducia in queste iniziative un po' folli. No, in realtà, dunque no, io sono molto contenta perché proprio prima con Claudio ci dicevamo che non è un caso che oggi terminiamo questo ciclo di incontri, ci abbiamo fatto arrivare alla fine con questo tema che è quello dell'intelligenza artificiale che inizialmente noi volevamo porre all'inizio però tendenzialmente credo che in questo percorso anche di maggiore consapevolezza forse arrivare a quello che è una delle sfide forse più calde e probabilmente anche più complesse su cui si stanno interrogando sia le organizzazioni culturali che le aziende e sia forse il momento giusto e anche il posizionamento giusto all'interno del percorso io ci tengo a dire una cosa perché adesso chi conosce la fondazione un po' forse ha imparato anche a capire qual è un po' il nostro modus operandi e credo che Tubisi sia stato, sia stato e sarà anche un po' effettivamente un po' la cartina tornasola di questa identità cioè il fatto che non è un caso che a questo panel ci siano studiosi ci siano rappresentanti del mondo della cultura, ci siano rappresentanti accademici, ci siano rappresentanti delle aziende cioè la complessità che ci attende e che ormai è già avviata si può affrontare solamente insieme solamente uscendo fuori da confini settoriali, cioè questa è l'unica strada perché siamo tutti di fronte alle stesse sfide ognuno poi le affronta nel proprio settore ma le domande che ci poniamo a volte sono le stesse quindi probabilmente metterle a sistema e avviare un'intelligenza collettiva su quelle che possono essere le risposte è d'aiuto a tutti. Io penso e chiudo che la cultura sul tema dell'intelligenza artificiale abbia un ruolo cruciale, centrale, cioè può fare veramente da pivot nella acquisizione di fruitori più consapevoli ed evitare anche tutti i bias diciamo che appunto questa tecnologia probabilmente produrrà credo che prima gli operatori culturali se ne renderanno conto, meglio sarà per tutto l'ecosistema non solo quello culturale ma anche quello educativo, quello imprenditoriale per cui a questo punto grazie e lascio la parola a Claudio perché ci attendo una lunga ghiacchierata Buonasera a tutti, sesto appuntamento probabilmente è l'argomento più complesso da affrontare da questo punto di vista. Io ringrazio ancora gli ospiti, l'unico che non è stato ancora citato ma è il professor Maffettone che... eh? Sì no, lo so però era... no no, qui c'è una locazione di responsabilità di carattere quasi penale quindi no, nessuno si potrà dissociare da questo incontro io ringrazio loro per essere qui stasera perché tra l'altro ci si misura con un tema la cui complessità non abbiamo ancora percepito del tutto è stato detto, noi abbiamo un atteggiamento, diciamo non siamo né tecno-ottimisti né tecno-pessimisti ma tecno-possibilisti insomma cerchiamo di cogliere le opportunità di quello che si sta disegnando di fronte dello scenario che man mano si sta disegnando di fronte ai nostri occhi perché l'intento è quello di mettere sempre più a fattor comune, a sistema tutto il valore che il mondo culturale può esprimere insieme a tutto quello che è il segmento imprenditoriale collaterale relativo a tante diverse industrie proprio quindi se ne fa un discorso culturale che preludia uno sviluppo produttivo questa è un po' la premessa di questo ciclo di incontri che si svolge non in chiave diciamo di conferenza ma come tavolo di lavoro è una cosa che abbiamo ripetuto tutte le volte noi usiamo quello che i relatori ci regalano di volta in volta sollecitati su temi complessi poi cerchiamo di farne una summa e stiamo trasfondendo il tutto in un toolkit che verrà poi praticamente una pubblicazione che conterrà tutto quello che è emerso da questi incontri in chiave di suggerimenti e strategie per il design digitale di attività azioni prodotti servizi che verrà distribuito ovviamente in chiave gratuita messo a disposizione di tutta la comunità sia degli operatori culturali che delle imprese in generale e di tutti quelli che vorranno in qualche modo afferire a questo per fotografare la tematica abbiamo l'abitudine di introdurre ogni incontro con quelle che io definisco le pietre miliari cioè ogni giorno c'è una notizia per esempio oggi parliamo di intelligenza artificiale sull'intelligenza artificiale però ci sono delle delle notizie che tendono a disegnare un po lo scenario meglio di allo